Bato sconfitta pesante lo diciamo subito evidente il risultato parla chiaro l'andamento del match è stato sempre sempre di marca Civitanova difficile no parlare dopo una sconfitta del genere che cosa che cosa non ha funzionato Bato stasera ma penso che più che non ha funzionato quasi niente sono stati bravi loro a metterci in difficoltà stasera gli è entrata la battuta quando noi battiamo bene sono riusciti a tenere la battuta a giocare con le nostre mani niente la cosa importante che playoff non importa se è perso 3 a 0 3 a 2 importa solo vincere fattore campo fino adesso non ha fatto assolutamente nessuna differenza e pensiamo a sabato perché non ci sarà più domani sabato bisogna dare tutto e bisogna tenere fuori anche quelle poche energie che sono rimaste dopo una stagione lunghissima ma ecco sono fiducioso lo so che la squadra è sempre reagito bene dopo una sconfitta del genere e dobbiamo rimanere positivi dobbiamo essere fiduciosi e sapendo che lo possiamo fare senti come si reagisce a una sconfitta del genere sabato è già vicino ci sono pochi pochi giorni no per cercare di cambiare quello che ha detto il campo stasera quello che hanno fatto loro dobbiamo fare noi spingere in battuta giocare così bene in attacco come come hanno fatto loro stasera e niente si è visto che non abbiamo avuto tanta possibilità di difendere paloni e noi siamo una squadra che comunque quest'anno è riuscita a essere una dei più bravi in difesa stasera non lo abbiamo dimostrato e a civitano bisogna fare molto molto meglio ma andiamo pensiamo subito a sabato lo so che non è facile ma testa su e andiamo avanti grazie